Siamo nel 1985 e un giovane scrittore italiano, appena trentenne, Pier Vittorio Tondelli, uno scrittore giovane, emergente, trasgressivo, sperimentale, prova a pubblicare un romanzo commerciale, estivo, per cercare di essere noto anche al grande pubblico. Si tratta del romanzo Rimini, pubblicato dalla Bonpiani, il libro che ho fra le mani in questo istante. Nel video di quest'oggi proveremo a capire se l'intento è stato raggiunto, se l'obiettivo è stato realizzato. Si tratta di un romanzo adatto come lettura estiva? Un romanzo leggero, fresco, gradevole, commerciale, oppure no? Andiamo per ordine. Pensate un istante a che cosa si legge normalmente d'estate. Si leggono soprattutto dei romanzi, dei testi di narrativa e fin qui ci siamo. Solitamente sono libri con una copertina molto colorata, sgargiante, che vuole attirare l'attenzione del lettore e direi che da questo punto di vista ci siamo di nuovo. Solitamente d'estate si leggono romanzi polizieschi, romanzi gialli. Ecco, il giallo è il primo colore che ci colpisce in una lettura estiva. Vediamo se Rimini è un giallo oppure no. Ve ne do un primo assaggio di lettura da pagina 127. Ascoltate. Aspettammo tutto il pomeriggio. Man mano che il tempo trascorso negli uffici della mobile cresceva, le ipotesi sull'identità del cadavere si accavallavano, si contraddicevano, si confermavano. Una voce presa a circolare verso le quattro informava che si trattava di un uomo politico molto in vista. Come sempre succede in casi del genere, era impossibile verificarne l'autenticità e nemmeno la provenienza. Poteva averla messa benissimo in giro l'uomo delle pulizie. Ma due ore più tardi era sulla bocca di tutti e gli inquirenti, pressati dalle nostre richieste, non confermavano né smentivano e quindi lasciavano capire che qualcosa di grosso era nell'aria. Fu possibile invece appurare con sicurezza che il prefetto in persona era su uno dei motoscafi. L'attesa divenne angosciosa. Mi tenevo in contatto sia con Susi alla redazione che con Milano. Curiosamente una prima conferma venne proprio da Milano. Il nostro notista politico a Roma aveva saputo qualcosa. Era sulla bocca di tutti negli ambienti parlamentari. E a Rimini, invece, nessuno diceva niente. Operammo con Zanetti alcuni collegamenti esaminando tutti i parlamentari residenti nella zona. Ma era una faticaccia. Nonostante questo, Susi in archivio stava preparando il materiale insieme a Guglielmo. La notizia, in via ufficiosa, venne data alle sei e quaranta e il nome prese a circolare freneticamente fra i telefoni, i tacquini, le chiacchiere. In quanto alle cause della morte si parlò vagamente, anche alle sette e mezzo, ora in cui fu convocata la conferenza stampa, di morte per cause dovute ad annegamento. L'identità del cadavere era ormai il segreto di Pulcinella. In tutte le redazioni d'Italia, da una buona mezz'ora, si rivoltavano gli archivi per stendere i coccodrilli sull'immatura scomparsa del senatore Attilio Lughi. Dunque, il primo ingrediente che ci attendiamo da un romanzo estivo c'è e come, la componente gialla. C'è qualcuno che sta facendo delle indagini? Si parla della polizia? In modo particolare il protagonista di questo romanzo è un giornalista che si trova, suo malgrado, invischiato all'interno di una ricerca. Come sempre nei romanzi estivi polizieschi c'è scappato il morto. In questo caso è un morto importante, niente meno che un politico, un senatore di rilievo. Qual è poi una seconda componente che di solito ci attendiamo dalla narrativa estiva, da un romanzo da leggere sotto l'ombrellone? Che ci sia una componente rosa, cioè una o più storie d'amore, possibilmente anche un po' lascive, trasgressive, insolite. Ecco, questa componente è presente in Rimini. Un secondo saggio di lettura. Siamo a pagina 162, ascoltate queste poche righe. Le notti seguenti Alberto prese a tornare di corsa dal Top Inn per gettarsi in quell'amore clandestino e notturno che gli era entrato ormai nel sangue. Milvia lo attendeva insonne. Non appena sentiva emergere dall'oscurità silenziosa i passi di Alberto, usciva dalla stanza. Già sul pianerotto lo iniziavano a baciarsi e i loro abbracci divennero sempre più placidi e distesi. Non ci fu bisogno di parole. Avanzavano il loro amore nel crescere dell'intimità e della consuetudine dei loro corpi. Certe notti Alberto guardava Milvia, pacata dopo l'amplesso, e le percorreva con la mano i seni, il ventre e le cosce quasi si trattasse di una creatura di sogno che ancora faticava a credere reale. E d'altra parte la loro unione pareva effettivamente costruita della sostanza stessa dei sogni. L'intorpidimento di quelle ore a cavallo fra la notte e il nuovo giorno, la stanchezza, il fiato affannoso che Alberto aveva spremuto nel suo sax fin quasi a rimanerne soffocato e che poi miracolosamente ritrovava nell'abbracciare Milvia. E lei, che a quella creatura della notte aveva affidato tutto il peso della sua insoddisfazione matrimoniale e della ricerca di una felicità, si vedeva quando ricordava nella luce incandescente della spiaggia i momenti d'amore con Alberto, attorniata dalla notte, dal silenzio, dalla sua voce emessa a gemiti e sussurri. E quell'uomo di cui non sapeva assolutamente nulla le appariva avvolto dal mistero, un mistero in cui era lentamente riuscita a penetrare fino a elevarsi, essa stessa, a fantastica creatura della notte. In questo modo i due amanti procedevano nei loro abbracci costruendosi reciprocamente una sorta di loro personalissima leggenda. E così facendo entravano nel mito. Alberto non era solo un uomo ma tutti gli uomini di questa terra. E lei, Milvia, tutta la dolcezza recettiva e femminia di questo mondo. Dunque la seconda componente, quella d'amore, quella rosa, c'è ed è presente non soltanto in questa ma in tante altre storie d'amore e di sesso presenti praticamente in quasi tutti i capitoli del romanzo Rimini. Di solito poi da una lettura estiva ci attendiamo un terzo colore, che è il blu, o se preferite l'azzurro, l'azzurro del mare. Solitamente la narrativa estiva è ambientata in località più o meno favolose di belleggiatura e, come ovvio, questa componente c'è fin dal titolo Rimini. Vi do di nuovo un esempio, un terzo saggio di lettura. Qui siamo a pagina 38 e viene descritta non Rimini, ma una città altrettanto importante vicino a lei che è Riccione. Sentite la bellezza di questo paio di pagine di tondelli, da una parte per lo più descrittiva. Eccola a voi. Arrivai a Riccione. Oltrepassai il ponte sul canale del porto e diviai a sinistra. Mi immisi nel traffico lento del lungomare. Grandi fari illuminavano il retro degli stabilimenti balneari. La sequenza ordinata delle cabine, dipinte a blocchi con tonalità pastello, aveva in sé qualcosa di metafisico e infantile nello stesso tempo. Come si trattasse di un paesaggio costruito per i giochi dei bambini. Le casette, i tettucci, i lettini, gli oblò, le finestrelle, le tinte tenni, il rosa confetto, il verdolino, il celestino, l'arancio, il grigio azzurro, il giallo limone, il viola pallido e altri colori di balocchi e zuccheri filati e frutte candite. Oppure di un assemblaggio ordinato di altri materiali per altri uomini. E in questo caso il colpo d'occhio mi sembrò il ponte di un gigantesco transatlantico arenato sulla sabbia. Una porta aerei sulla cui pista di lancio scorrevano le automobili, e i cui alloggi erano appunto là, sistemati in quella fila di costruzioni chiare. Dalla parte opposta stavano gli alberghi, un paio di nightclub, un campo da minigolf, un giardino brullo con qualche pino marittimo agonizzante. Arrivai a una rotonda immersa nella luce e parcheggiai. Gli sfociava un grande viale pieno di luci. In segna al neon, tavolini dalle tovagliette bianche affacciati sul passeggio, biciclette, stormi di turisti che procedevano lentamente. Striscioni luccicanti di lampadine congiungevano i due lati del viale, passando al di sopra dei pini come festoni luccicanti. Mi immersi nel flusso della passeggiata. Alzai gli occhi, ma non mi fu possibile scorgere l'altezza dei palazzi. Ma erano veramente palazzi di centopiani, come si reindotti a credere abbagliati da tutte quelle luci sospese a mezz'aria? O non invece dei semplici condomini? L'illusione era perfetta. Non avevo mai visto nulla di simile in Italia. Ovunque suoni, musiche, luci, insegne sofisticatissime che si accendevano e spegnevano seguendo un ritmo preciso. Disegni elettronici, che si svolgevano su pannelli grandi come schermi cinematografici, procedevano da destra a sinistra, e poi da sinistra a destra, e poi trasversalmente e dall'alto in basso e viceversa, controllati nelle immensa varietà di combinazioni da un computer. Scritte, slogan, figurazioni grafiche, labbra che sorridevano spargendo bollicine frizzanti che succhiavano cannucce, gelati, bibite. E in mezzo, per strada, camerieri in giacca bianca e alamari coloratissimi, che procedevano spediti, reggendo in equilibrio su una mano, vassoi colmi di gelati e creme e sorbetti dai colori fluorescenti, long drinks decorati con minuscoli parasoli di carta cinese, ventaglietti, piume di struzzo, ruote di pavoni. E poi il profumo improvviso e sapido di una grigliata di pesce cottali sulla strada. E ragazzi in completo scuro e doppio petto, che invitavano nei nightclub della costa promettendo ragazze, champagne e ogni disponibilità. Flash di fotografi e paparazzi. Disegnatori e ritrattisti ognuno con il suo cavalletto appoggiato al tronco rugoso di un pino marittimo. E intorno circoli di gente curiosa e bambini in posa e donne sedute con le mani in grembo e il profilo di tre quarti. E l'occhio emozionato per l'eccitazione di entrare a far parte del quadro. Ragazzi in canottiere e jeans strettissimi appoggiati alle loro motociclette, i capelli lucidi di brillantine gomme, i bicipiti potenti, piccoli orecchini ai lobi delle orecchie, crocchi di ragazze cinguettanti, playboy con catenelle d'oro attorno al collo, ai polsi, sulla caviglia appena sopra il mocassino, e anelli alle dita e bracciali e orologi scintillanti, frotte di ragazzini che si rincorrevano urtando la gente per darsi grandi manate sulle spalle e tirarsi i capelli e fischiare alle tette e alle gambe che passavano. Coppie innamorate sempre ferme pensose e indecise davanti alle boutique, ai negozi di antiquariato, alle edicole colme di souvenir. Risciocche fendevano il flusso della folla come piccole vedette rompighiaccio, ragazzi di colore che improvvisavano un breaking al suono di uno steroportatile, gruppi di turisti tedeschi che intonavano allacciati inni bavaresi alzando boccali da un litro di birra. Omosessuali tirati a lucido che procedevano come tanti robot, girando continuamente la testa indietro o di lato in movimenti indipendenti dal resto del corpo. Checchine fragili e vaporose e leggiadre che sostavano ai tavolini dei caffè delle gelaterie come tante farfalle nei calici dei fiori, bevendo un sorso qui e uno là e la testa sempre per i fatti suoi. Macio dai baffi frementi che procedevano avanti e indietro come tanti bambolotti Big Jim in fase di collaudo oppure a una parata militare. Ragazze seminude che sembravano uscite da Cleopatra o la regina delle Amazzoni, altre invece addobbate secondo un look savanico e selvaggio, treccine fra i capelli lunghi e vaporosi, collanine su tutto il corpo, fucciacche stampate a pelle di leopardo o tigre o zebra, messi lì per scoprire apposta un seno o una coscia. Vecchie signori ingioiellate che slumavano avide dai tavolini tutto quel panorama di baldanza e prestanza fisica e mostravano con orgoglio le rughe sul volto e la pelle grinzosa sulle braccia. Simboli di tante altre ben migliori stagioni simboli del trionfo del navigato e del vissuto sull'inesperto e sull'ingenuo. Lesbiche longiline che passeggiavano altere con le mani ficcate nelle tasche della giacca Giorgio Armani e non degnavano alcunché di sguardi o gesti immerse come erano nella loro vita parallela e differente. Gente comune che si sbrodolava le braccia fino ai gomiti per via dei coni squagliati. Avevo promesso un po' di blu, un po' di azzurro, un po' di mare, ma qui di mare se ne è visto molto poco. Perché il mare, o meglio la rimini e la riccione che vengono raccontate da tondelli non sono quelle del giorno, sono quelle della notte. E la notte in fondo porta con sé un quarto colore, che di solito è presente nei romanzi estivi migliori, ed è il nero, o detto con il nome di un genere letterario cinematografico, il noir. E anche di questo quarto colore vorrei darvi un piccolo assaggio prendendolo da pagina 254. La capacità che ha tondelli di rendere l'atmosfera della notte, secondo me, è unica. Ascoltate. Suonerò, disse Alberto alzandosi. È solo questo che vuole da me? Si chinò e prese il sax. Suonerò finché quei grassi maiali saranno talmente ubriachi del vostro schifo di champagne e talmente stanchi di ballare che scoppieranno come tante pere marce, uno dopo l'altro. Suonerò anche per lei, direttore, e spero che le budella le si torcano fino a farla crepare. Raggiunse il palco e iniziò a suonare, benché lo spartito non prevedesse in quel momento la sua entrata. Suonò così per tutta la notte, senza staccare mai. Si sarebbe detto che volesse lui stesso scoppiare nel suono del suo sax. I compagni non tentarono di calmarlo. Quello era anche il suono di vendetta di tutti i musicisti condannati a suonare per accompagnare il chiacchiericcio della gente, per servire come sottofondo agli intrighi delle troie da valera. Lo lasciarono andare per i fatti suoi finché, esausto, non cadda terra. Verso mattino Alberto raggiunse la pensione. I suoi passi erano faticosi. Impiegò molti minuti per salire le rampe di scale. Quando fu sul pianerottolo, gettò lo sguardo verso la porta da cui tante volte era provenuta quella luce calda e femminile. Quella mattina, per la prima volta, era spenta. La porta chiusa. Milvia era partita il giorno prima con i suoi figli. Era arrivato il marito e se gli era portati via con sé. Fu la prima volta che sentì una profonda, dolorosa nostalgia per quella luce che non c'era più. Barcollò fino alle tende, in fondo al corridoio che trattenevano la luce del giorno. Si aggrappò e tirò con tutta la sua forza. Il chiarore entrò nel corridoio come un lampo. Strinse gli occhi, pensò che a negare forse doveva essere la stessa cosa, dissolversi rabbiosamente nella luce troppo forte di un nuovo mattino. Dunque, il giallo, il rosa, il blu e il nero. L'arcobaleno del romanzo estivo è praticamente perfetto. Tuttavia, devo segnalarvi un quinto ed ultimo ingrediente che, diciamo così, non dovrebbe esserci in una leggera lettura estiva. Un ingrediente che ci aspettiamo da un romanzo estivo è proprio la leggerezza, il non farci pensare, l'accompagnare semplicemente la nostra bronzatura sotto l'ombrellone in spiaggia. Invece, in Rimini, i tondelli, c'è qualcosa in più. Questo romanzo, in teoria, nasce come una prova di forza dello scrittore che voleva dimostrare a se stesso e agli altri di essere in grado per una volta di essere leggero, disincantato, disimpegnato, addirittura frivolo e banalmente commerciale. Ma non ci riesce al 100%, perché di impegno, e di impegno nel farci riflettere, in questo stranissimo romanzo estivo, Rimini ce n'è molto. Come testimoni, ad esempio, questo quinto ed ultimo saggio di lettura, che prendo da pagina 282. Poche righe ma significative. Se guardi la sua formazione politica, la sua attività, tutto diventa chiarissimo. Quanti dei suoi compagni di partito hanno tramato, intascato, corrotto, insabbiato, però con la certezza di agire per qualcosa che in fondo li giustificava. Se non capisci questo, non credo tu possa capire 40 anni di scandali italiani, perché non hai mai davanti dei semplici corrotti, hai gente ben più pericolosa, gente che agisce con la certezza di seguire la strada giusta. Capisci? In fondo i cattolici sono molto più realisti dei marxisti o dei cosiddetti laici in genere, ben più machiavellici. Hanno sempre un fine indiscutibile, che appunto gli giustifica gli occhi della propria coscienza. Ma è un fine ultramondano, cioè tutto e niente. Questo è il punto. All'inizio del video ci siamo chiesti se Rimini, di Tondelli del 1985, sia una lettura adatta all'estate, sia, per così dire, un romanzo da spiaggia. La risposta, a mio avviso, è sì e no. Perché è vero, da un lato abbiamo notato alcune caratteristiche tipiche ricorrenti nei romanzetti estivi leggeri disincantati che leggiamo ogni estate, per far passare un po' del nostro tempo libero. Ma dall'altro lato Rimini è anche qualcos'altro. È un eccellente romanzo giallo, è un testo scritto in maniera, in parte tradizionale, in parte sperimentale. È, da un certo punto di vista, la fotografia di un'epoca, di una certa Italia, quella ruggente, disimpegnata e anche molto corrotta, degli anni Ottanta. Il libro viene pubblicato nel 1985 e anticipa in fondo molto di come sarebbe finita la Prima Repubblica. la corruzione, le mazzette, le tangenti, tutti i problemi che sarebbero venuti alla luce pochi anni dopo, con mani pulite e non solo all'inizio degli anni Novanta. Quello descritto in Rimini è un mondo surreale, estivo, caratterizzato dal caldo, dalla leggerezza, dalla violenza, a tratti dall'ignoranza, dalla voglia di cambiare le cose di alcuni e di lasciare tutto immutato da parte di coloro che sono al potere. Dunque una lettura estiva, per certi aspetti, un libro che secondo me dovrebbe diventare invece un classico, tutt'altro che disimpegnato, da altri punti di vista. Dunque non posso tra altro che in questi caldi giorni di luglio di questo 2022, di questa estate 2022, non posso far altro che consigliarvi caldamente, è il caso di dirlo, la lettura di Rimini, del grande e troppo spesso dimenticato Pier Vittorio Tondelli, vissuto fra il 1955 e l'inizio degli anni Novanta. Ironia della sorte, Tondelli muore di Aiz nel 1991, poco prima della fine della Prima Repubblica, che, senza volerlo, o forse volendolo, aveva così ben descritto in questo strano romanzo estivo, Rimini, del 1985. Grazie a tutti per l'attenzione, mi auguro buona lettura se deciderete di leggere questo bel romanzo, se volete lasciate un like a questo video e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.